Come scegliere obiettivi allineati alla tua idea di successo? Si parla tantissimo di obiettivi, di come sceglierli, di come raggiungerli e quali piani d'azione programmare per ottenere i risultati che vuoi. Quindi io sono molto contenta di parlare in questo audio e video blog proprio di questo, perché la mia prospettiva sul perseguire i propri obiettivi potrebbe essere leggermente diversa da quella che ti puoi aspettare. Per prima cosa, infatti, mi preme dire che io non sono così fissata sugli obiettivi come potrebbe far pensare la mia professione di coach e ti svelerò anche il perché. Ho individuato alcuni punti fondamentali da tenere in considerazione, secondo me, quando parliamo di obiettivi e di come perseguirli. 1. Concentrati sulla tua visione. Innanzitutto, prima di decidere quali traguardi raggiungere, è fondamentale, secondo me, interrogarsi sulla visione a lungo termine di ciò che davvero vuoi nella tua vita e di chi vuoi essere. Questo è un punto fondamentale e devi prenderti il tempo per farlo. Io per prima, in passato, avevo difficoltà proprio su questo. Raggiungevo obiettivi perché mi impegnavo molto e portavo a casa il risultato, ma poi magari mi accorgevo che non era davvero quello che avrei voluto. Ho realizzato un videoblog sulla Vivid Vision che ti consiglio di recuperare se sei interessata a creare una visione davvero allineata a ciò che vuoi. Potresti, infatti, scoprire che quello che definisci ideale da raggiungere non è poi così tuo, ma deriva magari da convinzioni che ti hanno tramandato i tuoi genitori, ad esempio i tuoi insegnanti, persone importanti nella tua vita, oppure la società stessa. È davvero utile alla tua versione di successo svegliarti, ad esempio, alle 5 del mattino, lavorare 8 o più ore, avere una bella casa? Chieditelo e verifica poi nel tempo se è davvero così. Non è il caso di darlo per scontato solo perché tutti fanno così o ormai si dice così, si sente così o si è sempre fatto così. Potresti scoprire che magari una bella casa in fondo non la vuoi perché preferisci vivere in camper e spostarti spesso. È possibile e mai, come in questo periodo storico, le persone hanno tante alternative di vivere la propria vita e possono scegliere ed iniziano a farlo, nuovi modi di vivere fino ad oggi mai sperimentati. Non esiste una sola versione di successo, è giusto che tu ti chieda qual è la tua. Ma attenzione, così com'è importante delineare la tua visione all'inizio del percorso, è importante anche verificare che ti corrisponda nel corso del tempo. Periodicamente, nella Vivid Vision ad esempio si consiglia un tempo di tre mesi, mettere in discussione la tua prospettiva è legittimo e sano perché con il tempo si cambia. Due, lascia andare le aspettative. Come seconda cosa è necessario lasciare andare l'idea che, una volta arrivata a destinazione, allora sì che sarai felice. Quando avrò quella relazione, quando sarò magra, quando avrò figli, quando sarò laureata, quando avrò ottenuto quella promozione, eccetera, eccetera. Ecco, non funziona così. La maggior parte delle volte, nel momento in cui raggiungiamo il nostro obiettivo, non ci sentiamo come pensavamo. E questo a volte capita perché spesso ci diamo un obiettivo nella speranza che colmi un vuoto che noi sentiamo dentro di noi in quel periodo, in quel momento. O magari anche da sempre una ferita vecchia, diciamo. Ad esempio, se il mio obiettivo è avere una storia d'amore, magari il motivo vero per cui la voglio è che desidero sentirmi amata, desiderata, adeguata. Ma la verità è che non c'è nessun risultato che ti possa rendere più amata, intera o completa di quello che già sei. Perché completa, amata, intera, lo sei già in questo preciso momento, senza bisogno di far nulla per guadagnartelo. Intendiamoci, non c'è niente di male nel desiderare cose belle per la propria vita. Anzi, è normale farlo e lo faccio anch'io. Solo che non è un'idea saggia e sana delegare e rimandare a quando arriveremo lì la nostra felicità. 3. Focalizzati sulle abitudini. Il terzo consiglio che ti do e che utilizzo io per prima è quindi di immaginare le cose che vuoi nella tua vita, impostare il cammino per raggiungerle, ma non creare un attaccamento spasmodico ad esse, come se il loro raggiungimento fosse l'unica cosa che conta. Dopo aver immaginato la tua vita nel modo in cui la vorresti, con gli obiettivi che desideri, lascia andare questi ultimi e focalizzati sul portare avanti le abitudini che ti porteranno eventualmente lì dove vuoi essere. In questo modo avrai la certezza che stai facendo ogni giorno delle azioni in linea con quello che vuoi diventare e ti stai avvicinando ogni giorno di più a chi vuoi essere. Questo è il segreto. Iniziando a fare le cose come la persona che vuoi diventare, a poco a poco trasformi la tua identità e questa è una cosa importantissima, la trasformi grazie all'azione. Non attaccarti a tutti i costi al risultato. Questo ti permette infatti di coltivare un'altra meravigliosa attitudine che è quella della mindfulness, dello stare nel momento presente perché, come dico sempre, anche se è un pensiero molto impopolare, è l'unico momento che abbiamo da vivere il presente. Non sappiamo se saremo qui domani. Numero 4. Aumenta la fiducia in te stessa. Agendo in questo modo, quando il cervello inizia a registrare il fatto che stai portando avanti azioni quotidiane nella direzione dell'identità che vuoi essere e manifestare, inizi di conseguenza in automatico ad accrescere la tua autostima e il tuo senso di autoefficacia perché significa che puoi fidarti di te stessa. Al contrario di tutte quelle volte in cui perdi autostima perché ti fai promesse mirabolanti basate solo sul risultato finale e poi non lo raggiungi magari e quindi sei molto frustrata. 5. Coltiva la self-compassion. Durante il percorso di portare avanti abitudini e azioni quotidiane che ci fanno tendere verso la nostra versione di successo, ti capiterà senz'altro, come ci insegna la mindfulness, anche dei momenti di su e giù. Ed è importante adottare un atteggiamento di self-compassion. Significa tollerare momenti no in cui non riusciamo a portare avanti l'azione che ci siamo prefissate. 6. Proprio come consigliano per le diete, se fai uno sgarro e in una prospettiva a lungo termine è impossibile che non ci sia non essere troppo dura con te stessa, ma ricomincia il giorno dopo con tutta la forza di cui sei capace, ma anche con tanta gentilezza nei confronti di te stessa. E' anche questo un modo per mantenere alta la tua autostima e non distruggerla proprio quando la stai costruendo. Non sarai mai perfetta, nessuno di noi lo è. L'importante è fare del proprio meglio nella direzione che piace davvero a noi. Non solo. Un altro insegnamento che ci arriva sempre dalla mindfulness è che non c'è fretta, non c'è una sequenza da rispettare, un momento in cui ti devi sentire in un certo modo altrimenti sei in ritardo. C'è solo la tua vita, la tua sequenza temporale, che è personale e non può essere paragonata a quella di nessun'altra e che è valida solo nel momento presente. Io ti ringrazio tanto di avermi letta, guardata o ascoltata fin qui. Ti ricordo di iscriverti alla mia newsletter per essere sempre informata sulle novità e di seguirmi sui miei canali. Ti ricordo inoltre che se sei interessata a lavorare con me in sessioni o percorsi individuali di coaching con l'uso della mindfulness e del tarot coaching per fare scelte allineate al tuo benessere e alla tua versione di successo puoi contattarmi a tatichiocciolatatianaberlaffa.com Ricevo online e ricevo anche in presenza a Legnano, in provincia di Milano. Ci vediamo presto. Un grande abbraccio. Un grande abbraccio.